Bene ascoltatrici e ascoltatori di Radio Arcipelago, come già ampiamente annunciato abbiamo gradito ospite in studio. Il commissario straordinario dell'ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il dottor Leonardo Deri, che come sapete è qui da qualche tempo nell'Arcipelago in qualità di comandante del compartimento marittimo di La Maddalena capitanere di Porto, guardia costiera di La Maddalena, come il capitano di fregata Leonardo Deri, ma qui è in veste di commissario straordinario dell'ente parco. Buongiorno dottor Deri, benvenuto a Radio Arcipelago. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, da poche settimane alla guida di un ente che è stato commissariato, e il fatto che sia stato commissariato la dice lunga e la ricorda lunga sulle vicende e i travagli che questo ente ha subito, quantomeno nell'ultimo anno, le diatribe interne tra la Presidenza Bonanno e il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Direttivo, tanto che alla fine, essendo arrivati a una certa paralisi dell'ente, il Ministro Galletti ha provveduto alla nomina di un commissario nella fattispecie, nella sua persona. Nel frattempo poi è arrivato anche il Ministro Galletti, qui alla Maddalena, in visita privata, lei come commissario del parco, ma anche come comandante della Capitaneria di Porto l'ha accolto, l'ha accompagnato a effettuare diverse visite. Io intanto, giusto anche per rompere un po' il ghiaccio, le chiedo una cosa, dottor Deri. Quando è andato via il Ministro Galletti, che cosa le ha detto di la Maddalena? Quale impressione ha avuto di la Maddalena? L'impressione del Ministro è stata quella di aver visitato un luogo unico, penso, in Italia, ma direi nel Mediterraneo. Lui è rimasto veramente impressionato della bellezza dei luoghi. È evidente che si è accorto anche di una serie di situazioni che sono presenti ormai da anni e delle criticità che sono presenti da anni e che in qualche maniera si dovrà superare. La cosa importante, direi che questo dovrebbe far piacere un po' a tutta la comunità, è quello che il Ministero non ha intenzione di abbandonare la Maddalena, anzi ha rilanciato anche su una serie di progetti che potrebbero in futuro portare svolte importanti. Siamo in una situazione un po' particolare, perché come Commissario sono chiamato a dare un po' attuazione anche di gestione dell'ente per cercarlo di farlo uscire da questo momento turbolento e di blocco di funzionamento. L'anno scorso purtroppo l'ente ha avuto un bilancio approvato solamente nei primi giorni di agosto e questo ha comportato tutta una serie di ritardi nell'attuazione della progettualità che era stata... Il primo obiettivo che mi pongo, ma ne abbiamo parlato anche nella prima riunione che ho fatto a Roma con la dottoressa Gian Rattano, che è poi il direttore generale per quanto riguarda il Ministero che si occupa di parchi nazionali, è stato proprio quello di dare attuazione a una serie di misure obbligatorie che servono proprio per il funzionamento dell'ente. In pratica di far rifunzionare l'ente? Assolutamente sì. Il problema è che non sarà sicuramente una mia partita quella di approvare ad esempio il piano del parco. Ecco, scusami scusi, lei è commissario straordinario, però ha dei compiti limitati, ha una ordinarietà di amministrazione con punte di eccezionalità però, perché chiaramente le situazioni poi richiederanno anche degli interventi straordinari, perché è inevitabile questo. Faccio un esempio giusto così per chiarire la situazione. Il piano purtroppo, il piano del parco ha visto un iter molto complesso, anche turbolento negli ultimi tempi e purtroppo non si è arrivati a una delibera da parte del Consiglio Direttivo. Quindi il piano del parco in questo momento non c'è e non sarà uno degli atti che io porterò avanti. Perché ha una caratteristica politica anche di scelta. Assolutamente di scelta che deve essere lasciata agli organi previsti, un nuovo presidente ma soprattutto un nuovo direttivo che è espressione della comunità del parco. Quindi non sono qui per dare voce a una volontà soggettiva, non è questo il mio compito. Faccio un altro esempio. Ho dovuto ultimamente approvare invece una piccola variante che ci ha richiesto la regione per quanto riguarda invece il piano di gestione SIC e ZBS. Sono dei piani che hanno visto la delibera da parte del vecchio direttivo, quindi diciamo che l'iter è concluso. Serviva un atto di ordinaria amministrazione per evitare poi di perdere dei fondi che ha istituito, che ha dato la regione per poter fare proprio questi piani. È evidente che questi sono gli atti che assolutamente bisogna portare avanti perché altrimenti si perdono poi una serie di risorse che vengono date proprio dalla regione. Ecco, e per quanto riguarda la nomina o meglio la individuazione della rosa del direttore del parco, figura basilare per il funzionamento dell'ente, il parco sta andando avanti con incarichi temporanei di propri dipendenti. Rientrerà nelle sue competenze? Diciamo che dopo un confronto anche con il ministero, la famosa terna da nominare per poi permettere al ministero di scegliere in questo registro dei direttori del parco la figura che può guidare a livello di gestione lente, questa procedura verrà lasciata al nuovo presidente, al nuovo direttivo. Cosa auspico in questo momento? Quindi andate avanti con nomine trimestrali, temporanei. In questo momento o riesco a trovare un cosiddetto direttore a scavalco, tra l'altro il parco ne ha già avuto uno qualche anno fa, da trovare tra i dirigenti ad esempio di enti locali che si mettono a disposizione. Lo sta cercando, diciamo che ho avuto degli approcci e anche delle risposte assolutamente possibiliste ma sostanzialmente negative, ma perché? Perché sono responsabilità importanti. Il lavoro, chi è del settore ha perfettamente compreso quali sono le problematiche che non sono cose di poco conto e ovviamente vado a cercare comunque dei dirigenti che hanno già il loro carico di lavoro, soprattutto in situazioni dove non abbiamo qua vicino degli enti particolarmente grandi che mi possono quindi scendere... Delle professionalità anche... No ma non è questione di professionalità, le professionalità ci sono, in ogni comune abbiamo almeno un paio di dirigenti, ma se io tolgo uno di questi dirigenti al piccolo comune di poche migliaia di cittadini, di residenti, è chiaro che vado a togliere il 50% della forza di un comune. Quindi è presumibile che dovrete andare avanti con queste nomine temporane. L'idea potrebbe essere, appunto, se riesco a trovare questo direttore a scavalco eventualmente anche, confrontandomi anche con il sindaco che purtroppo in questi giorni non è stato disponibile per motivi di salute, vediamo un attimo di trovare una soluzione. L'altra soluzione che vedo possibile è quella di una nomina di un subcommissario, che potrebbe essere il mio comandante di seconda in capitaneria, perché mi può dare una mano come succede in capitaneria. Il suo subcommissario chi è? Il mio comandante di seconda è il comandante Sciarra, che anche lui è qua da più di due anni, è una persona che... Lo staff della capitaneria si trasferirebbe... E diciamo che ci potremmo suddividere un attimo questo impegno, perché lui tra l'altro è un esperto anche di... è un laureato in giurisprudenza, ma è un esperto anche di enti pubblici, quindi mi può dare una mano proprio nel funzionamento dell'ente. Quindi affiancherebbe anche lui in questo difficile ruolo il direttore facente funzione, che in questo momento viene scelto tra le figure apicali del parco, ma chiaramente non sono figure professionalmente idonee a ricoprire quel ruolo. Diciamo che abbiamo dei biologi, abbiamo dei laureati degli architetti, quindi non è una figura specifica e soprattutto non sono dirigenti. Comandante Deri, dottor Deri, lei è consapevole che probabilmente il suo mandato slitterà, perché lei è stato nominato a dicembre, probabilmente a giugno le faranno un'ulteriore nomina, perché è impensabile che proprio all'inizio dell'estate intanto si mettano d'accordo con le nomine, perché so che ci sono grandi movimenti a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, eccetera. Poi obiettivamente cambiare e immettere un nuovo presidente in un momento nevragico, delicato, quale è l'inizio della stagione, per cui lei non lo può dire, però probabilmente nella sua testa farà anche un ragionamento più ampio dei sei mesi, cioè nella gestione, perché al momento lei non è chiamato a gestire l'estate, ma un parco funziona soprattutto d'estate. No, posso dire un'altra cosa, se non si prepara la stagione adesso, la gestione dell'estiva è semplicemente frutto del lavoro che si fanno in questi mesi, ma questo succede anche in capitaneria, se non si prepara bene prima dell'estate è chiaro che poi non riusciamo a ottenere... Però poi l'estate è la prova del nove, è il momento cruciale... Sì, sì, è il momento cruciale, io devo dire che facciamo un passo alla volta, in questo momento abbiamo l'esigenza assoluta di approvare il bilancio preventivo del parco, il bilancio preventivo del parco per legge doveva essere preparato e concluso l'iter a fine novembre del 2016, in modo da poter attivare tutte le gare, tutto quello che doveva essere fatto con l'impegno di spesa per il 2017. Siamo in ritardo, appena mi sono seduto su questo insediato, ho dato dei tempi molto precisi all'ente in modo da arrivare quantomeno alla fine del mese di gennaio ad avere il bilancio preparato, da sottoporre quindi poi al Collegio delle Divisore, alla comunità del parco, in modo da averlo approvato poi, io spero all'inizio di marzo. Questo ci permetterebbe comunque di impegnare la spesa e arrivare sicuramente... Programmare, quindi... Programmare, programmare una serie di interventi. Ora... Ecco, mi scusi, programmare una serie di interventi a terra e a mare. Ecco, vogliamo parlare di questi interventi che saranno da lei programmati nei prossimi mesi, una volta anche approvato il bilancio. Allora, diciamo che siamo andati per obiettivi. Gli obiettivi sono una decina, quelli che ci siamo preposti, prendendo anche, cercando di non distruggere quello che comunque di buono era stato fatto precedentemente, ma che non è stato fatto proprio per, diciamo, le situazioni che si erano create. Quindi il primo obiettivo, ovviamente, è quello della preparazione della stagione estiva. Per fare questo bisogna anche assumere un certo numero di personale stagionale. Quest'anno il mio obiettivo, l'ho già detto in maniera molto chiara, è quello di prendere più persone possibile, perché è solo la presenza del personale dell'ente che fa vedere qual è l'utilità del parco. Quindi dare dei servizi che non sono solo quelli di bigliettare per introitare comunque quello che è giusto. Perché si autofinanzia. Il parco si autofinanzia, quindi in parte, perché poi in parte, voglio dire, poi ci sono delle assegnazioni del Ministero. Però in questo senso è evidente che sia necessario bigliettare perché è anche giusto che se uno viene da fuori a vedere, come qualcuno dice, tipo quando vado a un museo, pago il biglietto. Qui siamo in un museo naturale di uno splendore unico. Quindi è giusto anche che si contribuisca tutti quanti a mantenerlo per quello che è. Detto questo, vanno dati dei servizi. Quest'anno una delle cose che si cercherà di fare con il comune, io ho parlato già anche con il dirigente del comune, è quello di aiutare il parco. Perché anche noi, essendo senza dirigenti, abbiamo delle difficoltà. Quello di fare delle assegnazioni al comune con obiettivi comuni. La sistemazione dei sentieri, piuttosto che la sistemazione delle cimetta rozzate nelle spiagge per la difesa della balneazione. Cosa che è mancata, per esempio, quest'anno? Quest'anno diciamo che in parte è stata sopperita questa situazione grazie all'intervento della Marina Militare, dove si sono dati disponibili loro, grazie a una chiacchierata tra il comandante Fazio, il sottoscritto e il dirigente facente funzione del momento, che era il dottor Iuridonno, per cercare di far fronte alla stagione del 2016. Quindi è stato fatto un qualche cosa in maniera assolutamente straordinaria per un momento assolutamente particolare. Quest'anno vogliamo partire in maniera diversa. Non è che dobbiamo chiedere un aiuto alla Marina Militare quando questi fondi ci sono e li possiamo anche utilizzare facendo lavorare delle imprese locali come dovrebbe essere. Il parco è un parco di tutti e dà delle grandissime opportunità, anche economiche, anche di lavoro, all'imprenditoria locale e questo è quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda gli approdi delle barche da trasporto turisti, pensa di modificare qualcosa? Allora, io quest'anno faccio una premessa. Esistono delle problematiche storiche sul discorso del trasporto passeggeri, con tra l'altro anche contenziosi tra l'ente e gli imprenditori che portano avanti queste attività. La mia idea è fare un incontro con loro, perché io qualche proposta vorrei farla, visto anche il ruolo che ho doppio di comandante della Capitaneria, ma anche di commissario dell'ente. Perché da una parte bisogna sicuramente tutelare la sicurezza della navigazione e quindi effettuare questo tipo di attività nella maniera più sicura possibile. Noi sappiamo benissimo che ci sono situazioni, in certi momenti nei mesi centrali, luglio-agosto, dove questa attività chiaramente ci crea un po' di preoccupazione. Dall'altra parte, come commissario dell'ente, non posso non vedere che comunque lo sforzo antropico sulle spiagge è veramente elevato. Ora ci sono delle autorizzazioni date nel tempo, con dei numeri che si sono più o meno mantenuti in tutti questi anni e sicuramente anche quest'anno assolutamente non aumenteranno. Le proposte ci sono, io spero che qualche imprenditore le voglia cogliere, perché ovviamente sarà una proposta che potrà avere delle restrizioni da una parte, ma dei vantaggi anche economici dall'altra parte. Non voglio anticipare nulla perché voglio fare un incontro con loro. Quindi io penso che ci possa essere un buon ritorno per cercare anche di trovare una migliore soluzione anche sul discorso degli itinerari. Lo sappiamo benissimo che l'anno scorso specialmente, dove non c'è stato controllo da parte del personale dell'ente Parco, le regole non sono state rispettate. C'erano delle autorizzazioni date per un certo tipo di percorso, di itinerari. Questi itinerari sono stati parzialmente modificati secondo la volontà dell'imprenditore, dell'armatore dell'imbarcazione. Quest'anno cercheremo di fare in maniera diversa. La mia idea però è quella di dargli anche una mano, perché quando si arriva in una cala, come può essere Cala Corsala, Cala Granara, dove poi si ha una vera difficoltà, forse non tanto a entrare, ma poi quando uno deve uscire. I gomoli del parco devono essere d'aiuto all'imbarcazione autorizzata. Quindi saranno loro, nel mio intento, se noi riusciamo a partire per tempo, quindi assumere queste persone stagionali già dal mese di giugno, saranno loro che aiuteranno gli armatori locali a effettuare le manovre di uscita. Questo è un po' l'idea. Il servizio bisogna darglielo. Comunque dovrà convocarli a breve questi armatori, entro il mese di gennaio. Se non sarà il mese di gennaio, i primi di febbraio, sicuramente, perché gli impegni sono tanti. Certo, certo. Lei, commissario Deri, sicuramente rispetto ai suoi predecessori, presidente del parco, ha un vantaggio che non si deve mettere d'accordo col comandante della Capitaneria di Porto. No, direi di no. Essendo, ecco, soprattutto per quanto riguarda i controlli. Sì. Perché l'ente parco, una delle grandi difficoltà dell'ente parco, è sì, garantire la presenza laddove è stato possibile, ma poi non aveva le possibilità normative per effettuare i controlli e si faceva riferimento, invece, laddove fosse necessario alla Capitaneria di Porto. Quest'anno ci sarà sicuramente un maggiore coordinamento per ovvi motivi. Voglio però sgombrare il campo da un grosso equivoco. C'è una grossa difficoltà di applicazione delle sanzioni sul parco, perché finché non entra in vigore il piano del parco e il relativo regolamento, le sanzioni sono quelle previste dalla normativa, dalla legge istitutiva del parco. Per cui sono norme che sono assolutamente inadeguate rispetto a quello che è magari la violazione compiuta all'interno del parco. Se non ci diamo un regolamento del parco è difficile poter applicare una norma. La difficoltà della Capitaneria molte volte è stata anche quella di capire quale fossero le norme che vigevano sul parco. È una difficoltà dovuta al fatto che è stato regolamentato il parco con ordinanze che dovevano essere contingenti per tempi assolutamente limitati che invece sono andati avanti per vent'anni. Però a questo punto essendoci un'unica persona a gestire i due enti probabilmente l'applicazione della norma e la scelta sarà forse più semplice. Qualche soluzione, ne abbiamo già parlato anche con i miei uomini, la troveremo. Il grosso problema, e questo ritorniamo sul fallimento forse grosso che ha avuto la gestione precedente perché non voglio entrare assolutamente nelle discussioni assolutamente legittime di posizioni diverse. Però il grosso fallimento è che in vent'anni l'ente non si è dotato di un piano e di un regolamento. E questo condiziona assolutamente tutta la gestione anche sui divieti che vivono nel territorio. L'unica cosa che in questo momento abbiamo è un piano SIC-ZPS che è arrivato alla fine del suo iter, non è ancora concluso, dove però, e questo poi magari sarà bene parlarne un po' più diffusamente, nel piano SIC-ZPS esiste un regolamento e questo regolamento quando entrerà in vigore il piano sarà effettivo. Con sanzioni non adeguate assolutamente, però ci saranno delle regole ben precise. In questo regolamento ci sono delle cose che non so se tutti quanti della comunità Maddalenina accetterà volentieri questo tipo di regolamentazione. È stato deliberato a novembre, quindi ha concluso l'iter. Adesso stiamo aspettando semplicemente l'approvazione della Regione e questo piano crea qualche situazione di imbarazzo, anche per noi. è evidente che questo piano andrà poi aggiornato, migliorato, sicuramente quando entrerà in vigore il nuovo piano, il piano del parco. Quindi sono due piani che si vanno a intersecare e in questo momento, così com'è, creerà qualche difficoltà. Lo dico in anticipo perché non è ovviamente una cosa che abbiamo fatto... Certo, però sarà importante anche la comunicazione e l'informazione che come ente parco vorrete dare, perché tante volte si è difettato da questo punto di vista di informazione, spiegazione, coinvolgimento. Ci stiamo lavorando con i dipendenti del parco che anche loro poi... È vero che l'ITR è stato veramente lungo anche in questo caso per il piano ZPS, è stato assegnato a una società esterna la preparazione e a questo punto anche i nostri stanno studiando in maniera molto precisa che cosa prevede il piano. Faremo una... Io convocherò sicuramente, chiederò al Sindaco Montella di ospitarci nella sala consigliare in modo da cercare di dare delle spiegazioni su quello che è questo piano, che cosa prevede. Che evidentemente presenterà delle restrizioni ulteriori. Assolutamente. Chiaramente, cioè da come si sta premendo. No, esatto. Più o meno significative. Ci sono delle restrizioni ulteriori. Purtroppo sono delle restrizioni che potrebbero essere mitigate nel momento in cui viene approvato un piano del parco che modifica certe situazioni. Ma anche le zonizzazioni, quindi aree che in questo momento sono vietate, diventano comunque con delle restrizioni molto molto importanti. Il piano SIC-ZPS non fa altro che prendere atto di quello che è il vecchio decreto di istituzione del parco. Sì, quindi restisce che certe restrizioni potranno essere mitigate solo dal piano del parco. Assolutamente sì. Quindi c'è la necessità di approvarlo quanto prima. Questo è un altro motivo per cui va dato un'accelerata e soprattutto va visto bene dalla comunità del parco. Va capito che cosa si vuole fare. Perché potrebbero esserci anche degli scontri, una dialettica anche accesa. Però poi una volta che si prende una decisione è giusto applicare le norme, le regole che si decide che vengono prese. Comandante, comandante Deri, dottor Deri, commissario Deri, qui in veste di commissario del parco, Spiaggia Rosa, sempre la ribalta delle cronache nazionali e internazionali, che è di proprietà del parco a questo punto. Non so se Litter si... No, non è vero. Ecco, non è stato completato Litter. No, 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 voglio fare una precisazione perché anche qua forse si è creata un po' di confusione. La Spiaggia Rosa è un bene de maniare malittimo. Quindi sulla Spiaggia Rosa direi che... Direi che su questo... cioè la tutela è assoluta sulla Spiaggia Rosa... E' già dello Stato. Era già dello Stato prima. Era già dello Stato prima, non è cambiato nulla. La partita di Budelli, invece dell'isola di Budelli, è una partita che si è chiusa. E' effettivamente nelle proprietà dell'Ente adesso? Sì. L'Iter si è concluso. Si è concluso. I 3 milioni di euro sono stati versati. La dottoressa Gianatano mi ha detto in maniera molto serena mi ha detto la partita è conclusa, finita, va bene. Con buona pace di chi era contrario. Ma sì, ma io adesso... Vabbè, senza entrare nel medico. Su questa questione voglio dire si possono avere visioni diverse. Il fatto è che in questo momento è giusto valorizzare l'isola perché l'isola, anche lì, una delle motivazioni dello scontro era se dovesse diventare una TA, una TB. Rimaniamo ai fatti. Rimaniamo ai fatti. È un'area che è aperta alla frequentazione di tutti quanti ovviamente con... Ecco, scusi, mi scusi, adesso siamo a gennaio quindi l'interesse è minore in questo momento ma quest'estate quale sarà la situazione di Budelli? Potrà essere usufruita? Allora, il progetto del parco ovviamente con le risorse che abbiamo in questo momento perché è vero che abbiamo un avanzo dell'anno scorso su cifre che non sono state utilizzate proprio perché non c'è stata la possibilità. l'idea sarebbe quella di sistemare i sentieri creare della cartellonistica diciamo di spiegazione per chi vuole sbarcare sull'isola ovviamente sull'isola si sbarca non dalla spiaggia rosa c'è già, esiste già non c'è un approdo l'approdo lo stiamo valutando con il mio ufficio l'idea è quella di mettere stagionalmente un piccolo modulo questo ufficio Capitaneria no, no, no un ufficio sempre parco sempre parco come parco abbiamo intenzione di mettere un tipo un modulo di legno per poter creare un approdo sicuro perché in questo momento l'approdo non esiste non c'è per poter accedere sull'isola in modo da poter anche mettere delle guide che possano quindi prendere anche delle guide stagionali che possano illustrare a chi vuole avventurarsi nell'isola di Budelli in maniera assolutamente sicura tutelata perché l'idea sarà quella di aprire di usare i sentieri che ci sono già attualmente evitare i passaggi in punti dove magari c'è da portare una tutela maggiore per magari delle problematiche di fitopatie che esistano comunque sull'isola ma non solo su Budelli anche su altre isole dell'Arcipelago quindi l'idea è quella di cercare di di arrivare in un'isola dove c'è l'intervento del parco di dare un servizio quindi la possibilità di andare a vedere la spiaggia rosa nella parte ovviamente non vietata c'è e la volontà c'è quindi l'idea è quella anche di mettere una serie di di indicatori che facilitino questi percorsi ecco questo per l'estate 2017 esatto questo per l'estate 2017 esatto io spero io spero sono convinto che con un bel po' di lavoro da parte degli uffici potremo ottenere questo risultato anche perché il progetto c'è già non è che ci siamo io ho rispolverato un vecchio progetto che era che era già stato fatto dal parco quindi abbiamo bisogno di lo ripeto siamo sempre lì abbiamo bisogno di approvazione del bilancio preventivo perché nel momento che abbiamo abbiamo l'approvazione del bilancio riusciamo a spendere e riusciamo a a risolvere questo questo problema bisogna prepararci per la per la stagione siamo siamo in questo in questo punto quindi gli obiettivi qual è? quello di rimettere in funzione tutti i gommoni che abbiamo abbiamo da da risistemare anche a livello di normativa non so sulla sicurezza i musei di Stagnali e il licea di Stagnali vorremmo riaprirlo in una certa maniera abbiamo da rinnovare i protocolli di intesa eventualmente con con l'università parte con l'università ma anche con chi con i volontari che in questo momento stanno gestendo i due musei il protocollo di intesa è già scaduto da tempo ora bisognerà trovare un accordo e capire bene come lo vogliamo gestire la volontà del commissario è di rinnovare questi due convenzioni con le due associazioni che gestiscono i due musei sì io sono stato al museo sono stato con con il ministro i musei sono molto belli davvero un patrimonio hanno un valore hanno un valore a prescindere e io ripeto non ne faccio una cosa non sono di maddalena e forse questo in un certo senso può aiutare io non voglio vedere le eventuali invidie o comunque quello che come sono nati nel passato questi due questi due musei sinceramente mi interessa poco quello che vedo è che hanno un valore hanno un valore e il peccato qual è quello che non siano aperti perché anche quest'estate per l'apertura ci si deve affidare sempre al alla buona volontà la buona volontà di queste persone che comunque vengono chiamate aprono e chiaramente però non è una cosa strutturata ora se uno lo vede appunto da esterno da commissario che arriva e dice ma come devono funzionare queste strutture a me piacerebbe che avessero degli orari durante l'estate in modo che il turista che arriva a Stagnali possa tranquillamente in maniera gratuita non stiamo parlando di si paga in tutti i musei è una minima cifra non è che ci sono delle problematiche sul discorso della del bigliettazione ma abbiamo le risorse per prendere qualche persona io pensavo stavamo facendo il conto un 5-6 persone per poter aprire in accordo in accordo ovviamente con chi in questo momento possiede il materiale che ha messo a disposizione quindi mettendo la disposizione del parco la mia intenzione sarebbe quello di renderlo fruibile a tutti quanti quindi anche il rilancio quindi anche del CEA di Stagnali che è stato in questi ultimi anni un po' trascurato e invece ha avuto un grande splendore in anni passati il CEA è molto bello ha ospitato anche grandi manifestazioni però vorrei fare anche un'altra precisazione ci sono delle situazioni che vanno risolte abbiamo lì delle diciamo delle situazioni da risolvere proprio su anche sulle foresterie presenti ci sono da mettere in sicurezza c'è da fare degli interventi sono dei depositi dove c'è materiale del parco materiale del parco utilizzato anche lì faremo dei fuori uso io conoscevo bene mezzi non mai utilizzati o poco utilizzati ci sono dei mezzi quelli famosi spazzamare che sono mezzi che sono assolutamente in questo momento ripararli sono anti proprio anti economico ripararli sono vetusti hanno una serie di problematiche mai risolte anche a livello tecnico nautico per cui l'idea ci sono i bus anche per quanto riguarda spazzamare faremo un fuori uso sicuramente per quanto riguarda i bus vedremo ecco un'altra cosa fondamentale sarà nel diciamo nel mio tra gli obiettivi che ho individuato è quello di riprendere il progetto del parcheggio di Stagnali perché il progetto del parcheggio di Stagnali si era interrotto aveva avuto modo di appurarlo mancanza di finanziamenti oppure problemi burocratici di volontà politica quello sarebbe bello saperlo cioè nel senso che se ci fosse stata una volontà politica di non farlo sinceramente non lo so ci sono state delle delle convenzioni non rinnovate con da parte del vecchio direttore con la presidenza del consiglio per cui ci sono dei fondi che pare in questo momento mi risultano purtroppo che sono stati persi ma il progetto non è morto ma lei conta di riuscire ad attivare il parcheggio di Stagnali per quest'estate questo questo mi sembra mi sembra un po' azzardato mi sembra un po' azzardato anche perché voi potete immaginare cosa vuol dire a livello autorizzativo a livello di gare mettere in atto una situazione del genere ci proviamo comunque riprendere l'iter almeno riprendere l'iter in modo da darci dei tempi certi perché quello è fondamentale per quanto ho visto è fondamentale per poter sviluppare una un discorso di mobilità ecosostenibile anche di sicurezza su Caprera anche di sicurezza c'è le spiagge certo perché poi evacuazioni in casi di sinistri leghiamo il tutto quanto a un'eventuale evacuazione per un incendio su Caprera che ovviamente nessuno vorrebbe nessuno però lo possiamo anche aspettare quando ci sono delle allerte rosse in comune mettiamo su un dispositivo con il coordinamento del comune tra tutte le forze che sono presenti alla Maddalena un dispositivo molto importante proprio per evitare situazioni di pericolo il parcheggio potrebbe avere un suo ruolo importante e quindi cercheremo assolutamente di trovare un modo per riattivare l'iter anche lì è vero che potremmo aver perso dei finanziamenti però il problema del parco in questo momento non sono i finanziamenti io ho visto che abbiamo delle risorse bisogna saperle utilizzare e non è facile non è facile perché c'è un codice nuovo sugli appalti il personale non è formato per fare un certo tipo non è strutturato non è organizzato quindi per poter fare questo tipo di attività la volontà da parte dei dipendenti ho visto è elevata perché c'è un po' quel senso di di rivincita di volere il rilancio dell'inter come è il suo rapporto con i dipendenti che situazione ha trovato la situazione che ho trovato è che da una parte c'è un po' di sfiducia in genere c'è il personale sfiduciato che da anni che combatte contro un certo numero di situazioni che probabilmente si sono create e che quindi si è sentito un po' non dico inutile nella propria opera perché non è mai riuscito a ottenere i risultati per il quale è stato assunto e per il quale sta lavorando comunque quindi dalla parte questa sfiducia è evidente dall'altra parte però c'è la voglia di di rimettersi in gioco di nuovo quindi di riprovare a trovare delle soluzioni il parco ha delle delle potenzialità enormi va aiutato anche da parte della comunità senta lei prima di venire nominato commissario del parco aveva avuto modo su incarico della procura della Repubblica di Tempio di effettuare dei sopralluoghi del controllo di documenti forse anche del sequestro di documenti adesso si trova anche in una doppia veste qual è la situazione che ha trovato su queste era stato incaricato chiaramente non può rispondere non le rispondo nel modo più solito è chiaro che questa però si era verificato che era stato incaricato dalla procura e adesso si trova all'interno del lente non è proprio corretto quello che sta dicendo perché l'incarico è arrivato dal ministero è arrivato dal ministero perché si è trovato in difficoltà la dottoressa Gialattano quindi il direttore generale si è trovato in difficoltà perché era subissato da mail scritti lettere eccetera eccetera da parte sia del presidente sia da parte del consiglio direttivo che raccontavano la vicenda in maniera molto diversa quindi la difficoltà del ministero era quello di capire che cosa stava accadendo e quindi ha richiesto alla guardia costiera che è un dalla quale noi come guardia costiera dipendiamo direttamente dal dal ministero dell'ambiente e quindi abbiamo siamo andati cercando di capire anche noi e abbiamo visto una serie di questioni ora noi siamo anche polizia giudiziaria non è che siamo un corpo che non è abbiamo una duplice funzione amministrativa molte volte ma anche di polizia giudiziaria quindi quello che abbiamo detto al ministero è stato detto anche con un certo garbo comunque anche alla procura della repubblica che è giusto che conosca qual è la situazione poi ripeto non entro assolutamente nello specifico perché non è proprio caso in questa situazione parliamo di parco internazionale ecco è rimasto appeso sospeso doveva esserci l'insediamento del consiglio direttivo del parco internazionale poi per le note vicende del nostro parco non è stato possibile realizzare è prevedibile un passo in avanti in questo senso sotto la gestione d'ERI allora io sul discorso del parco internazionale ho delle aspettative in questo senso che vorrei dare un'accelerata e infatti il 25 già vedo i vedo i corsi 25 gennaio vedo i corsi perché perché c'è la possibilità anche di agganciarsi a un progetto importante un progetto che vede capofila l'autorità portuale di Livorno si tratta del diciamo del più marittimo Italia-Francia quindi sono contributi che vengono dati dalla comunità europea più marittimo sì sono dei contributi che vengono dati per per la in questo caso per la sicurezza della navigazione però è molto legato anche alla tutela ambientale faccio nello specifico si tratta di una serie di possibilità di sensori eccetera eccetera che possano controllare la sicurezza della navigazione nel mare comune diciamo Tirreno Mar di Sardegna e Mar Ligure però in particolare e quindi questo vede perché vede l'autorità portuale di Livorno capofila perché hanno visto la possibilità di creare un progetto in questo senso e hanno chiesto la collaborazione delle altre autorità portuali quella di Olbia quella di Genova e soprattutto delle direzioni marittime quindi capitanieri di porto essendoci le più capitanieri di porto coinvolte è intervenuto direttamente il comando generale qual è la possibilità per il parco è quello di poter intervenire in questo progetto che vede come possibilità quello di migliorare il pilotaggio nelle bocche di Bonifacio quindi è una misura mitigativa del rischio del passaggio delle navi nelle bocche e quindi è molto importante a livello di tutela ambientale per quanto riguarda la cipolla come parco internazionale il parco internazionale innanzitutto sgombriamo anche qui un altro cosiddetto parco internazionale il cosiddetto parco internazionale non è un parco lo voglio dire in maniera molto chiara io quando sentivo parlare di parco internazionale delle bocche di Bonifacio mi aspettavo fosse un parco sono andato a vedere non è un parco è un GECT il GECT è una cooperazione territoriale internazionale tra Francia e Italia è uno strumento comunitario per poter ricevere contributi da parte della comunità europea quindi non è proprio quando uno parla di un parco un parco internazionale vorrebbe vedere delle regole comuni su un territorio il territorio assolutamente non avrà regole comuni non è non è un anche perché vede il passaggio di navi in uno stretto internazionale dove vivono delle altre norme che non possono sicuramente essere il GECT avrà una sede legale che è nell'isola di Spargi un'altra nell'isola di Lavezzi ci sarà un presidente alternato la finalità è un organismo che non ha un territorio preciso come può pensare il parco internazionale quindi con un confine come può essere il nostro parco dell'arcipelago ha la finalità di poter accedere a questi contributi comunitari per progetti comuni il fatto di ad esempio il poter dare attuazione al pilotaggio nelle bocche di monifaccio quindi la possibilità di mettere a bordo di una nave che deve passare con magari carichi anche potenzialmente pericolosi il fatto di poter mettere a bordo un pilota che conosce la situazione quindi è un pratico della zona consigliando il comandante della nave su come attraversare le rotte nelle bocche è fondamentale per avere un'ulteriore sicurezza ricordo che le bocche di monifaccio è un'area che l'IMO quindi l'International Maritime Organization ha definito come PSSA quindi è una zona particolarmente sensibile un'area marina particolarmente sensibile nel mondo ne esistono 13 ne esistono solo 13 però tornando al discorso GECT cosiddetto parco internazionale ci eravamo lasciati con i francesi per doverci vedere a novembre poi è saltato tutto ecco da questo punto di vista in effetti c'è un comitato di gestione da parte francese e da parte italiana già nominato che doveva insediarsi ecco ma da parte sua ci saranno i contatti per mandare avanti questo disegno la mia volontà è quella di mandarlo avanti l'incontro del 25 nasce proprio da questa esigenza vediamo quali sono i passi da fare abbiamo questo obiettivo diciamo a brevissimo raggio perché questo progetto si chiude agli inizi di marzo quindi legare la creazione del GECTE e già deliberare la possibilità di partecipare a questo progetto fa diciamo innanzitutto è fondamentale per poter vincere questo progetto quindi farsi dare questi fondi per poter fare questa cosa e dà una motivazione all'accelerazione dei tempi assolutamente per dover partecipare assolutamente sì quindi io mi sto ancora ieri ero a Livorno per una riunione di questo tipo con le autorità portuali di riferimento e con il comando generale nostro delle capitanerie ho fatto presente questa questione sarebbero molto intensi cioè è un valore aggiunto al progetto avere il GECTE all'interno quindi io questa cosa la dirò anche ai francesi ai corsi i colleghi corsi che vedono comunque questa cosa so già in maniera molto positiva quindi cerchiamo di dare un'accelerata se riusciamo a intercettare questa cosa sarà molto positiva bene fino ad ora abbiamo parlato di mare non abbiamo ancora parlato di terra e non abbiamo parlato soprattutto di cinghiali che devastano soprattutto le isole di Maddalena e Capri non a caso stasera c'è una riunione operativa sì in quel del CEA di Stagnali sì l'idea di questa riunione è quella di fare un attimo il punto della situazione io non mi occupo di cinghiali naturalmente non è cacciatore non sono cacciatore ho l'intenzione di capire innanzitutto quali sono i vincoli i limiti le varie possibilità che abbiamo so che c'è la possibilità appunto quella dei punti di sparo piuttosto che un sistema invece di 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 utilizzo di gabbie ci sono altre possibilità tipo la cosiddetta bracconata quindi la possibilità di andare a fare un tipo di attività un po' più invasiva ci sono varie possibilità l'idea in questo momento è quella con la forestale di fare un attimo il punto della situazione vedere quali sono i passi che dobbiamo fare e dare una risposta comunque anche lì alla comunità cioè il problema del cinghiale che poi è impropriamente detto cinghiale perché è un ibrido è un ibrido pertanto non è un animale autoctono di queste isole e va sicuramente ridotto se non addirittura ha eliminato la problematica in un comunicato stampa recente si parla di eradicazione che significa estirparlo completamente non riduzione ci sono dei fondi del del ministero per questo tipo di di attività interesseremo sicuramente il forestas che è l'agenzia diciamo regionale che si occupa di questa di questa problematica a livello non solo non solo ovviamente di Maddalena ma a livello regionale stanno facendo progetti importanti a all'isola di della Sinara per cui vediamo di vedere qual è la la via migliore cercando di trovare anche magari una misura tampone al momento e poi di intervenire con la misura più concordata tra tutti gli enti per poter comunque alla fine risolvere questa questa situazione io sono andato ultimamente a Caprera effettivamente a Caprera è un problema ma è un problema anche a Maddalena ora speriamo spero che non sia un problema anche su isole minori tipo Spargi una volta erano scomparsi poi qualcuno ha detto che erano ricomparsi quindi vuol dire che c'è comunque la mano dell'uomo che in qualche maniera li introduce li sopprime adesso non voglio non voglio dare delle indicazioni perché non sono un esperto e ci faremo ci riferiamo anche a esperti del settore anche al dottor Andrea Rotta che sono persone che quindi l'università di Sassari hanno una competenza diciamo molto più profonda di quello che può essere la mia ci affidiamo agli esperti vediamo di trovare una soluzione a proposito dell'università di Sassari c'erano in piedi diverse convenzioni per studi scientifici e per la realizzazione anche di iniziative importanti come il laboratorio degli oli essenziali tutto il discorso sugli orti di Garibaldi cioè c'erano delle convenzioni in piedi che purtroppo finora non avevano dato grandi risultati in termini diciamo perché non c'è stato però era in corso delle cose importanti che però si sono interrotte che avrebbero potuto invece avere dei risultati importanti diciamo che metterà a mano anche su questo l'abbiamo visto questi progetti proprio nel momento in cui stiamo mettendo giù il bilancio di quest'anno l'idea non è quella di dimenticarli questi progetti anche perché è un peccato anche se in questo momento non so ci saranno delle priorità sicuramente diamo delle priorità il laboratorio degli essenziali aveva portato dei risultati dove però mentre da altre parti i risultati sono stati quelli non so di una creazione di una start up quindi la produzione anche in maniera artigianale di prodotti locali fatti con le risorse di un parco per quanto riguarda la Maddalena questo non è successo sono state formate delle persone ma nessuno ha cercato di creare una diciamo una piccola società artigianale una cooperativa una cooperativa un modo per commercializzare questo prodotto quindi vediamo di rilanciare anche questa situazione però poi lì ci vuole anche la volontà da parte non sarà certamente il parco che si deve mettere a commercializzare può promuovere la situazione ma poi ci vuole anche un po' di preditoria locale che possa vedere uno sviluppo un altro problema poi andiamo anche a concludere questa interessantissima intervista è il problema del di Caprera cioè del i funghi le malattie che stanno aggredendo numerose piante numerosi alberi di Caprera là c'era stato uno studio dell'università di Sassari purtroppo come si vede ecco come si vedono le arature dei cinghiali si vedono anche l'essiccamento di tante piante anche lì ci sono ci sono delle ci sono stati degli studi che si sono fermati lì cioè nel senso che prevede è mancata la parte successiva quella del dell'intervento io sono andato a vedere un po' questi studi come si sono conclusi e prevedevano delle delle successive fasi non tanto adesso poi bisognerebbe entrare bene nello specifico ma quantomeno un continuo monitoraggio di questa situazione capire quali sono le zone più colpite quali sono le ragioni le ragioni sono spiegate bene in maniera molto precisa non sono spiegate in modalità di intervento per arginare questo problema che sta diventando importante o almeno parzialmente perché qualche intervento tra le righe è suggerito che però non è stato fatto non è stato fatto e l'idea è quella di riprendere non possiamo abbandonare tutto un lavoro che è stato fatto precedentemente detto questo non è neanche ci dobbiamo dare delle priorità io penso che in questo momento abbiamo delle priorità veramente assolute ma sono priorità a volte anche di semplice gestione cioè il parco è rimasto bloccato anche su che ne so sui piani della performance per i dipendenti sui piani di anticorruzione di trasparenza abbiamo da rivedere il sito dell'ente abbiamo da rivedere il sito delle autorizzazioni c'è da rivedere il ci sono tutta una serie di situazioni che abbiamo c'è da rivedere il merchandising il merchandising abbiamo un tantissimo materiale che è presente nei magazzini di stagnali che va venduto ora non è che il parco deve sovvenzionarsi in maniera incredibile su questi oggetti o queste magliette che possono essere però è giusto che il turista quando arriva se vede il parco capisce che c'è un parco capisce che è giusto anche dargli la possibilità di acquistare questo tipo di materiale anche lì non è il parco che deve vendere l'oggetto vedremo di fare dei protocolli di intesa dandoli in conto vendita alle attività commerciali dandogli il giusto il giusto guadagno su questo tipo di attività bisogna anche invogliare il rivenditore a vendere il prodotto del parco quindi cerchiamo di sbloccare un attimo questa situazione è una cosa che può far bene a tutti quanti quindi cerchiamo che diventi un volano per un turismo che non sia un turismo invasivo ma che sia un turismo di qualità un turismo assolutamente consapevole di dove sta arrivando quali sono le tutele che deve avere per mantenere intatto questo patrimonio che è un patrimonio di tutti in special modo dei maddalenini che comunque con tutta la pubblicità che si fa anche delle come possiamo dire delle iniziative che vengono anche da fuori comunque in tutti questi anni ha mantenuto l'arcipelago così com'è e quindi questo bisogna darne assolutamente atto io mi aspetto molto dalla comunità mi aspetto molto anche a livello di essere propositivo in questa questione la problematica dei barconi vediamo troviamo delle soluzioni che possono essere utili da una parte e dall'altra ci sono ci possono essere delle soluzioni percorribili quindi cerchiamo di trovare una via comune in modo che il parco non sia solo un ente come viene percepito all'esterno che in un certo senso faccia solo da riscossione per un servizio che non dà non deve essere così che limita esclusivamente ora che ci siano dei limiti è evidente non si può pensare che non ci siano dei limiti in un parco lo dice la legge per cui voglio dire non penso che dopo 20 anni dobbiamo andare ancora a discutere se questo è un parco o non è un parco è un parco c'è una legge che l'ha istituito nella legge già si dicono certe cose è giusto che certe tutele ci siano quindi certi limiti ci siano ma questi limiti possono essere assolutamente un volano economico per la regione e questo è quello che va fatto ci sono nel mondo di situazioni di questo tipo dove la comunità assolutamente vive grazie a certi limiti che vengono imposti vive proprio perché si crea questo tipo di tutela produttiva che si riverbera poi in tutta la comunità locale bene mentre ci avviamo verso la conclusione di questa intervista vorrei fare ancora due domande intanto ha citato lì la regione quindi vorrei chiederle quali sono i suoi rapporti con la regione l'assessorato regionale all'ambiente che non dipende il parco dalla regione ma si rapporta attraverso la comunità del parco assolutamente noi abbiamo due referenti importanti il ministero ma anche la regione la regione ha delle per tutta la regione Sardegna da delle regole che vanno a integrarsi ma anche a modificare la normativa nazionale e quindi il nostro riferimento è sicuramente la regione io sto cercando una breve un incontro con l'assessore Spano ma giusto per avere anche un'idea comune su quello che deve essere il parco l'intendimento è quello di fare un incontro con il dottor Montella in modo che possiamo sviscerare un po' le problematiche che abbiamo in questa zona vorrei dire che ripeto anche il piano SIC ZPS che è un piano che incide in maniera importante è un piano che viene approvato dall'assessore viene approvato dalla regione con un decreto quindi è vero che è stato deliberato dal consiglio direttivo è stato deliberato adesso a novembre forse è l'ultimo atto forse è l'ultimo atto ma è anche lì un percorso lungo è iniziato nel 2013 ci sono state varie diciamo che è un piano che è andato fino a un certo momento in parallelo col piano del parco perché non poteva entrare in contrasto quindi sono andati in parallelo nel momento che si è stoppato il piano del parco la regione ha detto va bene il piano del parco non va avanti ma quanto meno deve andare avanti il piano ZPS SIC siamo arrivati al punto ora non è più il momento di ritornare indietro il piano ZPS SIC ZPS andrà modificato nel momento in cui ci sarà ci sarà il piano diciamo generale del parco con il relativo regolamento va visto con attenzione perché la regione ci dà delle indicazioni ben precise addirittura delle limitazioni ora ho ricevuto un sacco di telefonate anche di colleghi che mi chiedevano se doveva essere vietata la pesca subacquea nel parco ci sono delle indicazioni sulla pesca subacquea ci sono delle indicazioni c'è la possibilità di vedere magari delle misure anche transitorie però sicuramente non tutte le zone saranno diciamo aperte per la pesca subacquea già alcune zone non lo sono però ci saranno ulteriori restrizioni mi pare di capire parzialmente cioè voglio dire ci sono delle anche perché è difficile in questo momento ci sono ci sono delle limitazioni che però prevedono la possibilità di derogare nel momento che ci sia un accordo tra comune e parco dove in via sperimentale si possono aprire anche altre zone quindi torniamo al discorso che è indispensabile approvare quel regolamento del quale dicevo inizialmente sarebbe bene applicare quello ma anche senza applicare il piano quindi il piano e il regolamento c'è la possibilità di aprire a un confronto con il comune e trovare delle soluzioni transitorie per vedere se c'è la possibilità di allargare questa situazione quindi non sarei così preoccupato per gli appassionati di questa attività vero è che è giusto come in tutti i parchi nelle aree marine esistenti in Italia ci sono delle limitazioni sulla pesca quindi ci saranno anche qua ma ci sono già non è che inventiamo nulla di nuovo assolutamente per concludere come ci si sente ad essere una persona che esercita i maggiori poteri nell'arcipelago perché lei la sua la sua posizione di commissario del parco e di comandante della capitana di porto ha più poteri anche del sindaco Montella come ci si sente come ci si sente in una posizione del genere lo voglio dire chiaramente non voglio dire che è l'uomo più potente dell'arcipelago ma che esercita più poteri sicuramente sicuramente del sindaco Montella il predecessore di Montella Angioletto Comiti diceva io sono un sindaco come i miei predecessori con poco regno perché esercitava poco potere sul territorio del comune della Madrena un presidente direttore del parco Onesi basti pensare che il PUC è sorordinato al piano del parco solo questo il governo del territorio la cappa su dove la mette per esempio il tarco quindi come ci si sente come ci si sente ma io sono molto sereno ma per un semplice motivo è una bella responsabilità anche è una bella responsabilità ma sono sereno per un motivo molto semplice che non ho intenzione di di esercitare un potere non condiviso cioè non sono qui per per fare il despota della della situazione assolutamente la mia idea è quella di confrontarmi continuamente con con la comunità del parco e soprattutto col comune perché poi abbiamo la fortuna questo ente questo parco ha la possibilità di relazionarsi con un solo comune e non sono tanti i parchi che hanno questa fortuna io ricordo ho avuto l'esperienza per un'area marina io ho fatto il comandante anche a Santa Margherita Ligure avevo sotto la mia giurisdizione anche Portofino avevo un parco dove quantomeno esistevano tre comuni importanti Camogli Portofino Santa Margherita con a volte colori anche politici diversi quindi decisioni assolutamente differenti qua questa situazione non ce l'abbiamo abbiamo un ci siamo confrontati molte volte con l'amministrazione Montella e abbiamo sempre trovato delle soluzioni che alla fine possano essere utili a tutti quanti sia per quanto riguarda il ruolo l'abbiamo fatto con la Capitaneria per il ruolo che è della della Guardia Costiera lo troveremo anche per il parco non penso di fare il di deliberare questioni che non vedano comunque un un confronto con il comune ma non è non è neanche giusto è giusto avere avere assolutamente un un accordo su certe situazioni sentendo tutto il comune io adesso parlo del della maggioranza ma anche della minoranza cioè il confronto sarà molto aperto vero è che ci sono delle situazioni che sono già state deliberate deliberate e sono state deliberate in certa maniera ripeto io ho visto il piano sic qualche preoccupazione ce l'ho su come verrà accettato non è ancora approvato faccio una premessa probabilmente l'iter si concluderà verso aprile aprile maggio ma sicuramente prima della stagione estiva ci sono delle situazioni da vedere le regole poi comunque sia vanno rispettate non è che possiamo avere un piano e poi non lo applichiamo tirando fuori degli alibi delle situazioni facciamo quello che dobbiamo fare in futuro adesso io starò sei mesi lei dice che verrà probabilmente anche prorogato ma sicuramente sarà una proroga giusto di tre mesi estivi potrebbe essere ma poi è giusto che intervenga gli organi che sono preposti a prendere le decisioni importanti per questa comunità e le responsabilità se le devono prendere loro questo è un traghettamento in sostanza e cercare di rimettere in navigazione questa barca che ha visto mari tempestosi in questi ultimi anni anni e mezzo perché se poi uno va a vedere la situazione era già diciamo in difficoltà precedentemente ci sono da riprendere un po' di contatti con tanti enti io sto facendo il possibile per sentire tutti quanti oggi avevo un incontro anche con i forestali regionali mi dispiace che li ho dovuti lasciare con la riunione ancora in corso abbiamo tante cose da vedere anche con loro il nostro braccio diciamo di supporto operativo sono loro la forestale la capitaneria però voglio dire ci deve essere assoluta condivisione degli obiettivi perché altrimenti non andiamo da nessuna parte bene poi c'è anche un buon rapporto credo che certo sicuramente anche dal punto di vista personale col sindaco mi consta che siate in buoni rapporti e anche un buon rapporto con l'attuale comandante della marina militare della scuola sotto ufficiale è una congiuntura favorevole da questo punto di vista perché anche i rapporti personali sono importanti ecco anche tra rappresentanti di enti se ci sono dei rapporti personali civili e di reciproco rispetto sicuramente questo porta alla soluzione dei problemi che ci sono sul tappeto sì ma io penso che questa situazione uno la chiama una congiuntura favorevole dovrebbe essere la normalità cioè non si vede il motivo di avere delle rivalità o delle difficoltà di relazione con l'ente locale o con le scuole che sono comunque il principale ente militare della della maddalena poi ci può essere un rapporto di amicizia e questo aiuta e non guasta sicuramente non guasta ma un rapporto istituzionalmente corretto è doveroso da parte di uomini di stato come siamo cioè quindi voglio dire non lo vedo una cosa non dovrebbe essere non ci si dovrebbe stupire dovrebbe essere così assolutamente va bene allora comandante direttore no commissario 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 deri grazie per essere venuto qui a Radio Arcipera o se ancora qualcosa da dire qualche ma niente io adesso primo obiettivo di giornata abbiamo questo incontro con con tutti gli interessati tutti gli enti interessati per il problema cinghiali speriamo di trovare una soluzione io capisco che sia un problema molto sentito dalla comunità locale l'impegno c'è c'è un impegno molto forte questo devo ringraziare i dipendenti che mi hanno accolto come non vorrei non vorrei diventare la loro la loro soluzione di tutti i mali perché vuol dire che hanno molta fiducia in lei hanno molta fiducia spero ben riposta ma dipende molto dalla squadra che si crea e quindi io li ringrazio per l'impegno che ci stanno mettendo diciamo anche mettendo da parte una serie di situazioni che magari in momenti di conflittualità nascono anche all'interno di un ente e quindi mi fa piacere che certe situazioni si stiano appianando ce la stiamo mettendo tutta per arrivare ai nostri obiettivi benissimo ringraziamo il commissario dell'ente parco nazionale dell'arcipelago di la maddalena il dottor leonardo deri per essere intervenuto qui all'arcipelago per aver risposto alle nostre domande credo che sia stato fatto un buon servizio di comunicazione anche alla comunità maddalenina grazie ancora e buon proseguimento di giornata un saluto a tutti grazie arrivederci grazie grazie grazie